Ciao a tutti ragazzi, sono io Alex Krim e oggi siamo su PES 2021 Carriera allenatore con la Juventus Oggi giochiamo contro il Torino con questa squadra Portiamoci pure lui Lui Bentancur fuori, Rugani fuori Mettiamo Hakimi, ci lo portiamo Poi partiamo a giocare Aspettate Giornare al posto di Arthur Arthur La bio E poi Stato così Chi era l'altro? Ecco, Hakimi E poi E poi Mettiamo Berna Così si scende in campo Contro il Torino Fino alla fine Forza Juventus Vedete qua che grafica Allianz Stadium Torino Juve Si comincia Il Verbi Il Verbi Di Torino Kenny Aspettate un attimo Mi fa una cosa Che Io voglio la con Possesso Palla Qua Alessandro Qua Attenti Oddio Adesso questo è gol Primo gol del Torino Raga devo fare No Fuori gioco Raga devo fare una cosa perché mi da noia Che è così la formazione Mi da proprio noia Scusate ma a me da noia Metta formazione Forse perché l'avevo fatto qualcosa Vabbè Già cambio qua E lui Oh Così Attenti Bravo buffon Per fortuna abbiamo preso gol Non abbiamo preso gol Rabiot Hakimi Douglas Ronaldo No Sbaglia Ronaldo Passaggio Hakimi Hakimi Rabiot Pallonetta Adesso non riesce Non riesce Il gol Tenti Qua si prende gol Weston Grande delicto Buffon Demiral Hakimi Dopo abbiamo pure l'Inter McKennie McKennie Piazza Ronaldo No Non ci arriva Ronaldo Non ci arriva Demiral di testa Non ci arriva Hakimi Eppure Ecco il gol Delicto Dai Passaggio Grande Andiate Hakimi Hakimi Sì Hakimi Oddio Che brutto Fallo Giallo Per fortuna Andate qua Spuum Eh l'ho preso Eh in teoria L'ho preso Gli ho trapassato Cioè Comunque Comunque Anche se non lo prendeva Il gioco pericolo Scuso Cioè L'ho preso Oddio Cioè Non con un giusto Intervento Quindi Fatto bene Piazza No Sbaglia Di Bala Rabiot Douglas Douglas Lancio Per Nessuno Perché non ci arriva Non ci arriva Ronaldo Delicto Passaggio Per Ronaldo Non ci arriva Rabiot Passaggio Per Di Bala Di Bala Piazza Piazza Dentro No Volevo passarla Di Bala Finisce qui il primo tempo Di Torino Juventus Facciamo subito i cambi Chiamo Zeko Zeko Kulzelski 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 Imparata Parata Ado Non ci arriva Non ci arriva Non ci arriva Nessuno No Non ci arriva Di nuovo No Non ci arriva Delicto Non ci arriva Nessuno Invece McKennie Sì Rabiot Spazza Kulzelski Kulzelski Ora vieni Kulzelski Kulzelski Non ci arriva Comunque tra parenti Cioè Raga Comunque Che Cioè Con il possesso Questo palo è un altro modulo Senza possesso È un altro modulo Diciamo È un cambio modulo Continuo Gol 1-0 Torino Che sfida Ci ha Dai Non vince Davio Ronaldo Non ci arriva Ronaldo ci prova Non ci arriva Nessuno Alexandro Neppure Delicto Neanche Nessuno Nessuno Oddio Grande Demirolda Tento Valla Passo Sul Prima Qualcuno Delicto Fa la nostra Sì Sì Subito Attacchiamo Ramsey Ronaldo Kulusevski Ronaldo Kulusevski Fallo Che non tallo Kulusevski Kulusevski Delicto McKennie Zeko Zeko Ramsey Ronaldo 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 1-1 Juventus Gol di Cristiano Ronaldo Incredibile gol FANTASTICO FANTASTICO Dio Derict Demiral McKennie Ramsey Ci arriva Ci arriva nessuno Non la prende nessuno Invece Demiral Demiral Non è Non è rigore Perché ho fatto un intervento Quando ormai lui Aveva già Teva pallare Gli affuori Ramsey Rabiot Akimi Cross No non ci arriva Zeko Ci deve arrivare qualcun altro Però Dei nostri McKennie Zeko Ronaldo 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 Tu hai uno sderbi Ronaldo Grandissimo gol Guardate qua Zeko Ronaldo Boom Cristiano Ronaldo Ragazzi Ditemi se devo aumentare Il Il Cosa Difficoltà Sì o no Secondo me no Perché questa è dura Stata dura Troppo Cristiano Ce la fa sempre A tempo scaduto Si è vinto il derby Il derby a tempo scaduto Date qua Sei Cinco di Miralcista Cinco di Guadalcista Cinco di Guadalcista Cinco da Groskosto Seguzevski Sette Ezeko Sette punto Cinque Ronaldo Cazzo Si potrà meritare pure una 8 Però Vabbè Migliore in campo Raga bisogna arrivare primi Bisogna arrivare primi per forza 25-31 Per forza Primi bisogna arrivare Raga adesso C'è il derby C'è il derby Prima c'è del derby Adesso c'è il derby d'Italia Trattative Chi è? Da Groskosto Hanno rifiutato E ho Ci abbiamo ancora 2022 E' genua Ok Va bene Una frezza Ok Ok raga Adesso bisogna Fare una grandissima partita Meglio di prima Oh Dai Ti amo Chi è? Non c'è Vabbè Non mettiamo nessuno No scherzo Eeeh Zeko Titolare Zeko Poi Qua di Bala No Con nome Kenny Posso mettere Kenny Perché No In realtà si Però Non c'ho Vai Non è vero Non mi è piaciuto E soltanto Però voglio mettere Migliore De Sciglio Bonucci E De Miralle Stanco Guarda Io non mi fido tanto Di Buffon Non mi fiderei così tanto Quindi così No dai Si spilancia la formazione Ok Da così Va bene Cioè no Ok Possesso Uguale Senza Possesso Uguale Ok Così E Va bene O metto Delict No no Niente Delict Così Scende in campo Così Per Tu Lombardia Vabbè Inter Juve Il derby D'Italia Siamo Mazzare al Cosa Al Cosa Al San Siro Però Non c'è Non c'è L'Inter Non ha Il PES Non ha Diritti Per l'Inter Quindi Non lo siamo Ecco La formazione Che non è questa Oh Questo è bene Questo ancora no Perché 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 Ok E Tutto Vabbè Già Iniziamo Oddio Asamoah Grand Zeko Arthur Ronaldo Che cerca Da Glass Costa Che può Crossarla Che sbaglia Però Seco No Ho cercato A chiuderla Ho cercato A chiuderla Non so Non so Il secondo palo Però Non c'è Chiellini Sì Vabbè Lautaro Quanto salti In alto Un altro Arthur Arthur Non mi tira Da che Ascosta Madonna Non è alto Sulla fascia Quanto è bene Quanto è una Bene Ne lanci Oh Se rivince Un'altra Ok No Alexandro No Non può entrare Non può entrare Tu non puoi passare Con Chiellini Oh Di valla Oh di valla Zeko Non ci arriva Ci sta No Centralmente E' passato Invece No Perché c'è La coppia Chiellini Bonucci Uh Zeko La passa Adagra scosta Che Non mi la passa Stavo zitto Perché Volevo prendere la palla In tutti i modi No, no, Ronaldo, dai, oddio, dai lo sto tenendo, grande Arthur che è venuto a farci compagnia, no, 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 pollo, 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 c'è un pollo, c'è un pollo in azione, Zeko. La prende, Alexandro di testa, neanche, oh, Zeko, è cercato a tirare, no, 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 c'è Samoa, no, c'è Samoa, a Samoa, a Samoa, rigore, rigore, ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata, guarda qua, rigore netto, guarda qua, No, non l'ho toccato, signor arbitro No, vabbè, non l'avevo toccato, signor arbitro Non era rigore Non era rigore Non era rigore Tito, rigore, rigore rubato dall'Inter Clamoroso, rigore dato all'Inter Mai esistito No, vabbè Stagliato, questo si perde Ronaldo Zeko Douglas 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 pallonetto Che dove stava uscendo Tira una mina sul primo palo Croc Di Bala Di Bala Al centro per Douglas Costa e non ci arriva Alexandro Ecco Ci hanno preso la palla No, era fuori gioco questo Non fuori gioco Palla piena Palla piena Palla piena Palla piena Palla piena Che non era rosso però era palla piena Non è giusto Guarda qua Palla piena Palla piena Palla piena Vabbè forse è gioco No, non lo so C'è mente il perché Oddio Zeko Arthur Douglas Naldo Di Tacco Arthur Di Bala Che perde la palla Bonucci Di Bala Arthur Ronaldo Zeko Zeko Arthur Arthur Ronaldo E non ci arriva Deciglio Dove sei niente Deciglio Mi è arrivato a te se si perde dwelling Perché hai un rigore clamoroso che non c'era Clamoroso Cessi Lancia Douglas Costa Secco Douglas Pranalto No dai Ronny Dovevi correre appena c'avevi la palla Pallo No vabbè No vabbè Si perde il derby Per un rigore Mai esistito Rigore mai esistito No vabbè C'è un rigore Che non c'era mai Sono terzo in classifica Guarda Guarda Fai Va bene Dai fai giocare così Siamo così va bene Ok Mi va bene Sai come ho giocato Ho giocato Questa è pure l'ultima partita Una penultima Non ti sa quanto No chi era Simuliamo ste due partite Pure Dai giochiamo così Se volete far giocare così va bene E come volete giocare Giocare tanto Non mi date mai retta Va bene Sassuolo Sangiuolo Guarda quanto si va 2-0 Entro il Genova Oh siamo a secondi Siamo a secondi Siamo a secondi In campionato Siamo a secondi Siamo a secondi Cioè siamo Secondi e poi punti Oddio Quasi finito Quasi finita No Miglior allenatore Della Pallone d'oro Messi Miglior allenatore Non noi Vabbè Del mese Capito Guadagni di novembre Nessuno No scherzo Database Database Non c'è database Ecco database Titoli individuali E miglior a squadra del mese Nessuno Nessuno dei nostri E Ronaldo Ti fa doppietta Contagni Miglior calciatore Della Europeo Ronaldo Secondo 150 voti No Miglior calciatore Dell'anno No 500 Calciatore Dell'anno No Volevo mettere Flick 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 Dai fai Va bene Alza su San giuolo Giocate voi Juventus 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 Sempre seconda Siamo secondi Quello è l'importante Restare là Restare in quelle parti Classifico Poi Provevo pure a vincere il campionato Che c'è? Cosa? Cosa? Quando? Dove? McKennie No McKennie non si vende Penso L'oglio è già venduto Zanimacchia Venendi Peters Wesley Ho venduto un po' di giovani Vabbè Adesso c'è questo Non si fa Ufficio allenatore Cambio ruolo Ok Ok Vabbè Spero che questo video vi sia piaciuto E ciao